Nello Musumeci ha ripetuto venire discorso che verrà a Sciacca al più presto per parlare delle terme. La città lo aspetta anche se rispettosamente dubita che verrà a dire cose che già non si conoscano. Tanto più che il governatore ha espresso forti critiche più o meno velate su quello che si doveva fare e che non si è fatto e sulla necessità di dover spendere un altro po' di settimane a fronte degli anni che sono trascorsi infruttuosamente. Ha ricordato sostanzialmente che il suo governo si è insediato appena lo scorso anno e che non è il caso di spazientirsi oltremisura. La questione terme di Sciacca rileva però sotto diversi punti di vista non solo su quello squisitamente politico e delle responsabilità. Tra un mesetto circa saranno trascorsi infatti esattamente quattro anni dalla sciagurata decisione assunta allora dai dirigenti e avallata evidentemente dallo staff dell'allora presidente Rosario Crocetta di chiudere gli impianti nell'emore che si individuasse il partner privato che dovrà gestirli per almeno 99 anni. Del partner privato per la verità non c'è ancora nemmeno l'ombra, sullo sfondo tuttavia c'era e c'è ancora un'avvertenza che continua a fare discutere tanto più che quando si è tentato di dare alla crisi un'accelerazione ne è scaturita solo l'ennesima polemica politica. Terme ancora chiuse dunque sulle quali è in corso una liquidazione infinita e per le quali dopo il pasticciaccio dell'istituzione di una SPA la regione è chiamata a comprarsi beni che sostanzialmente sono sempre suoi questione che non riguarda solo le piscine a Molinelli è tuttora aperto a un problema di ricongiungimento delle proprietà dei beni termali questione per la quale è stato presentato un disegno di legge che naturalmente ripropone l'accoppiata sciacca-acireale. Obiettivo finale è quello di stanziare i fondi necessari per ricomprare i beni della società per azioni cosa necessaria a quanto pare anche per non incorrere nell'aiuto di Stato che l'Unione Europea non permetterebbe. Ma la questione terma è la stessa che ha fatto emergere perfino un problema di accatastamento di alcuni edifici tipo le stesse stufe di San Calogero tuttora inutilizzate per non parlare di una SPA che fu istituita senza mai sopprimere l'azienda che dunque rimase in vita al punto in cui siamo dunque sciacca non si accontenta più solo delle promesse e in questo ambito è particolarmente indicativo l'atteggiamento di indolenza e indifferenza da parte della maggioranza della collettività nei confronti della questione. Sentimenti, indifferenza e indolenza che scaturiscono sicuramente dalla considerazione che per anni le terme sono state una sorta di succursale di qualche segreteria politica ma oggi occorre guardare il futuro ed è questa una delle ragioni per le quali mercoledì pomeriggio le 17 alla multisala Badia Grande la nuova puntata di Vesper al cinema sarà dedicata proprio al rilancio di una battaglia che nasca da una nuova spinta civica sulla falsariga di quanto si riuscì a fare per il destino del Tribunale e dello straordinario lavoro portato avanti nel corso degli ultimi anni dallo stesso Comitato Civico per la Sanità in difesa dell'ospedale Giovanni Paolo II. Sciacca è chiamata a risvegliare un orgoglio per troppi anni sopito quella di mercoledì pomeriggio a partire dalle 17 sarà una puntata di Vesper nella quale il cittadino non sarà soltanto spettatore no potrà partecipare in prima persona mostrando un senso dell'appartenenza ormai sfuggito di mano l'ambizione di Telemonte Crone è quella di trasformare un talk show in un evento pubblico che riveli la forza di una comunità che non ha bisogno né di rimbrotti da parte del presidente Musumeci né di inutili speranze per il futuro le terme sono un patrimonio nato con la stessa città di Sciacca non sono certo solo una medaglietta graffiata, inutilizzabile e se è giusto stabilire perché siamo arrivati a questo punto è giusto al tempo stesso anche battersi per risolvere il problema bisogna farlo per tante ragioni non solo per quelle fondamentali riguardanti la possibilità di tornare a disporre di uno sviluppo ma anche per il rispetto che si deve alla storia di questa città che i cittadini per primi dovrebbero rivendicare magari dimenticando per un momento di quale partito si fa parte superando per un po' le reciproche propagande ricordandosi di ciò che ad una giornalista rispose François Mitterrand quando gli fu chiesto del motivo di una decisione che sembrava lontana dalla sua visione della politica signora, si ricordi che prima di essere socialista sono francese?